Ciao a tutti! Oggi siamo ad 8. 8 eagle crunch, 8 infinity abs e 13 libretti. Sono pochi, ma vedrete che pian piano diventeranno tantissimi. Andiamo! 1 2 3 4 5 6 7 8 Cambiamo parte. 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Sedute. Si va con gli infinity abs. Ricordatevi di abbassarvi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cambiamo parte. 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Benissimo. Gli ultimi nostri libretti. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 e 5. Via subito a stracciare. Questa volta iniziamo con la schiena. Iniziamo con la schiena. E allungo. Passato tutto. Ci vediamo domani. Mi raccomando non perdete colpi perché se volete degli addominali perfetti dovete essere costanti. Ciao ciao.